Che cosa racconta l'Orlando Furioso? È difficile esaurire in poco tempo la trama di una storia così complessa, lunga e intricata, che si sviluppa in 46 canti per un totale di 39.000 versi. Limitiamoci ai dati essenziali. Una precisazione iniziale è d'obbligo. A differenza di un poema epico classico, il Furioso non ha né un unico protagonista né una trama lineare. Ciascuno dei cavalieri ariosteschi ha una sua storia, continuamente interrotta e ripresa, che in parte è parallela alle altre, in parte si interseca con esse. Perciò un riassunto continuativo del poema risulterebbe difficile e intricato. È tuttavia possibile distinguere due grandi filoni o linee di svolgimento. Il primo è quello guerresco o bellico, che si riallaccia più marcatamente alla tradizione del poema epico cavalleresco di età medievale. Esso si apre mentre infuria l'assedio di Parigi, che oppone i cristiani di Carlo Magno ai saraceni di Agramante, re d'Africa e di Marsilio, re di Spagna. L'antefatto della vicenda era già nel Orlando innamorato di Boiardo. Per sanare l'ostilità tra i paladini Orlando e Rinaldo, entrambi innamorati di Angelica, principessa del Catai, Carlo ha affidato la giovane al duca Namo. La otterrà chi ucciderà più nemici. Ma Angelica fugge ed è questo l'inizio dell'Orlando furioso. Rinaldo, Orlando e con loro altri cavalieri, sia cristiani sia pagani, abbandonano il campo per cercarla o per rintracciare i propri compagni. Mentre essi vagano, la guerra continua. Rodomonte, re saraceno, fa strage di nemici, finché non torna Rinaldo con i riforzi dall'Inghilterra. I pagani sconfitti sono costretti alla ritirata. Giunti ad Arl, si imbarcano per far ritorno in Africa. Ma in una terribile battaglia navale sono annientati. Nel frattempo Astolfo ha guidato i cristiani alla conquista del regno di Agramante. Quest'ultimo trova rifugio a Lipadusa, Lampedusa, e propone a Carlo di risolvere il conflitto con un duello tra i tre campioni cristiani e i tre saraceni. Orlando e il suo fedele compagno Brandimarte e Oliviero combattono così contro Agramante, Gradasso e Sobrino. Nonostante la morte di Brandimarte, la vittoria è dei cristiani.